Non era assolutamente un aereo, ne sono certo. Era veramente enorme. E la voce di uno dei tanti testimoni oculari che ieri sera ha visto una sfera luminosa che improvvisamente è apparsa sul cielo sopra la marca. Un oggetto volante non identificato per alcuni, per altri una semplice cometa. Ieri sera, mentre buttavo la spazzatura, erano più o meno le 19. In cielo da Treviso verso nord ho visto questa palla tipo una cometa di colore blu e in due secondi si è infuocata e poi è sparita. Per altri invece l'oggetto si è illuminato improvvisamente da fermo per poi sfrecciare verso nord. Segnalazioni visive anche da fuori provincia per un fenomeno che ha affascinato e turbato, stando le chiamate, che sono giunte anche alla nostra redazione e a tutte allo stesso orario, ovvero le 8 e mezza di ieri sera. Avvistamenti che per tutta la serata e la notte si sono rincorsi sui social network, alimentando dubbi, fantasie e timori. Che il cielo sopra la marca e il Veneto sia per così dire affollato lo confermono anche gli esperti del Centro Ufologico Nazionale, che raccolgono quotidianamente dati, immagini e testimonianze di avvistamenti non identificati. Bisogna avere abbastanza elementi, diciamo in questo caso, per dare un giudizio definitivo. Sono state segnalate luci di vari tipi. Addirittura sono state anche associate alla formazione dei cosiddetti cerchi nel grano. Domenica sera sono stato contattato da un signore della Gordino che mi ha riferito che verso le 18 e 30, mentre stava rientrando a casa, ha osservato in cielo una sfera luminosa rossa molto grande con una scia che ha attraversato tutta quanta la valle della Gordino da nord verso sud. Fin qua diciamo niente di anormale. E' che a un certo punto, mi ha riferito il testimone, questa sfera si è fermata. E' rimasta immobile ferma per 4-5 secondi e poi, plaf, è sparita. Questa mattina, a mezzogiorno, ho ricevuto un'altra telefonata da un testimone della provincia di Vicenza, della zona di Schio, Vicenza, che mentre stava lavorando, verso le 9 e mezza del mattino, alzando la testa, anche lui mi riferisce di aver visto due sfere di luce di un colore sul biancastro che hanno attraversato tutto il cielo, sempre da nord, e sono sparite nella direzione sud. Che si tratti o meno di UFO e di presenze aliene, al momento resta impossibile da verificare. Quello che è certo è che nel cielo sopra la marca ieri sera si è verificato un fenomeno che in tanti ricorderanno a lungo. Grazie a tutti.